Il futuro delle prossime generazioni I trafogli di carta impregnati di inchiostro e di parole Immagino un futuro in cui si possa sentire ancora il profumo dei libri con le pagine Si possano vedere i mille colori di bandiere diverse che uniscono Rendono partecipi persone di etnie diverse ma con obiettivi comuni Immagino la mia università La loro università In un futuro di valori universali